Tutti sulle mani per questa canzone M200 Diablo Questo è il suo nome Cliccate sul canale perché vogliamo tanti iscritti I Pinedro ragazzi sono M200 Diablo E oggi vorrei parlare di una esperienza formidabile, fantastica Che ti segna la vita Che è l'esperienza nell'esercito Sono stato due anni nell'esercito Infatti sono stato inattivo per due anni In questi due anni ho perso tanta creatività Che potevo immettere su Youtube Proprio perché non si possono fare video all'interno di caserme Non si possono fare video in questi ambienti Soprattutto quando si è militare Insomma è meglio evitare Ho questo cappello che vedete Perché ero in un reggimento alpino In provincia di Bolzano Come ci sono finito? Lì ci sono finito Allora intanto io ho vinto il quarto blocco 2012 Entrai nell'esercito Ho fatto il RAV Che sarebbe l'addestramento che dura tre mesi a Capua E poi da lì ci hanno smistato dopo tre mesi Nelle varie caserme E io ho misi la preferenza nei paracadutisti da folgore Andalcaparra a Pisa Dove sono stato un mese e mezzo E in addestramento E in addestramento Ebbene sì mi sono fatto male Mi sono fatto tanto male Mi sono fratturato il bacino Frattura dell'ala iliaca a sinistra In un addestramento E mi sono stato a letto per un mese Mi facevo le punture da solo Di una sostanza che serve per evitare la trombosi E sono stato a letto un mese E i miei comandanti mi avevano rassicurato Che potevo poi una volta rientrato Rifare il corso E invece poi una volta che sono rientrato Il corso non me l'hanno fatto fare E mi hanno buttato in questo bellissimo reggimento degli alpini Sono fiero di aver fatto parte sia della folgore Che degli alpini Comunque sono due reparti abbastanza d'elite Cioè due reparti tosti Dove ho passato due anni della mia vita Questi due anni della mia vita sono cambiati Perché comunque una volta che te entri Abituato a stare a casa A giocare alla playstation A fare mamma ti fa sempre da mangiare Poi vai sempre fuori con gli amici E la ragazza E di qua e di là Una volta che te entri in quel mondo lì E non è facile Perché poi ti cambia tutto Ti stravolge tutto E ti fa capire tante belle cose Perché poi Libertà non ha prezzi Se Naya non provi La Naya poi Cercate su internet Cosa vuol dire Naya Un termine militaresco Niente Vediamo un po' se funziona sempre Funziona Funziona? Funziona Sto usando il telefono Perché la GoPro fa cacare Comunque Ecco Gli aspetti positivi Che l'esercito Mi ha regalato Sono Intanto il vivere Il vivere totalmente lontano da casa Conoscere persone Completamente diverse Perché comunque Cioè Conosci tutta Italia In camera Io avevo Un campano Un veneto Un siciliano Poi io ero toscano C'era tutta Italia lì C'era Un ragazzo di Taranto Quindi alla fine Il bello È che Entri in contatto Con tutta Italia E Elimini anche I pregiudizi Che magari potevi avere Nel senso Ho visto Quelli del nord Dicono che Quelli del sud Sono terroni Che sono tutti stronzi Invece non è così Perché Ci sono persone Veramente Veramente d'oro Io Anzi Forse ho legato più Con le persone del sud Che del nord Perché Sono veramente Persone Stupende Detto questo Io ragazzi Vi Vi saluto E Volevo dirvi Che non sono stato attivo Purtroppo In questi due anni Perché Non potevo Sono stati due anni Che mi sono serviti Nella vita Potevo fare strada Magari su youtube Perché Avevo diversi contatti E tutto Quindi se non Entravo nell'esergio Sicuramente A quest'ora Magari Potevo essere Abbastanza Abbastanza Popolare Popolare Su youtube Perché Continuavo a fare video Ero entrato Insomma In un giro Fantastico Avevo conosciuto persone Stupende Proprio nel 2012 Con il games week Del 2012 Lì proprio Mi si stava Aprendo un mondo Che poi Mi si è chiuso Dopo un mese Perché poi sono entrato Nell'esercito Ebbene Il 3 dicembre Mi hanno congedato Perché ho finito due anni E meno male Che però Nel frattempo Io ho studiato Per un concorso In una forza di polizia E l'ho vinto Quindi adesso Aspetto che mi chiamino E niente Entrerò di là Quindi nulla Ho voluto esternare A voi Questa magnifica Esperienza Nell'esercito Perché comunque Chi ha la possibilità Potrebbe provare Non se ne pente Sicuramente L'unica cosa È che Come ho fatto io Il WFP1 Volontario Inferma Precisata Di un anno È Una clessidra Che scade Cioè Una volta che entri Non ti devi mettere L'anima in pace Perché poi Devi studiare Per i concorsi Che escono Il WFP1 Ti mette Ti apre le porte Per altri concorsi In altre forze di polizia Comunque anche nell'esercito Però Devi studiare Nei concorsi pubblici Se non studia Al cento per cento Non li passi Cioè io Sono arrivato A quattrocento Esimo E passa Per aver fatto Un errore Su ottanta domande Quindi figuriamoci Chi ha fatto due Tre errori E quanto è arrivato In gradatorio Ecco Detto questo Io saluto Saluto Omiatol Che è il mio compagno È stato sempre Il mio compagno Youtuber Da quando Sono Ho iniziato A intraprendere Quel mondo lì Fino al 2012 Che poi dopo Ci siamo un po' Dovuti lasciare andare Per altre strade Poi saluto Stepni Tutta la banda Di Prato Che è esperienza Gas Tutti i ragazzi Che erano A ritrovo Qualche giorno fa Che non ci sono Saputo andare Perché ero malato Ora mi sono ripreso Finalmente Tutti i fazzoletti Sempre i fazzoletti A portata di mano E Niente Io poi saluto Tutti i ragazzi Che erano attivi Sul mio canale Chissà dove cazzo Sono andati Io a video Faccio Sì e no Cento visualizzazioni Con sei mi piace Cioè Proprio un cazzo Però vabbè Comunque Rimane sempre una passione Quindi chissà Magari in un futuro Se continuo a avere tempo Così Lo posso Lo posso rifare Qualche video Tranquillamente Però non so se Siccome non ho ancora La Playstation 4 Sono sempre rimasto La Playstation 3 Io Volevo provare anche A vedere Di fare un video Su MW2 Come ai vecchi tempi Oppure Magari Provare qualche giochino Sul computer Così divertente Vedremo Comunque Chiudiamo il discorso Ragazzi Nell'esercito È È una bella esperienza Ecco Non è Non vi posso dire Se è Bella o brutta Ma comunque positiva Perché Perché ti fa capire Tante cose Purtroppo Non è Non è più obbligatorio Secondo me Faceva bene A tanta gente Fare il militare Almeno un annetto Fa comodo Perché questo Questo io quando lo vedo 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 sacrificio Quando vedo Quando vedo Sta penna qua E niente Io vi saluto Un abbraccio Il pino è duro Il pino è duro ригame